ciao amici men wow benvenuti oggi siamo in un posto meraviglioso come vedete siamo venuti al mare perché viste le previsioni non proprio rose che ci aspettano per i prossimi giorni è meglio approfittarne per venire al mare e godere di questo spettacolo come sapete questa è la mia spiaggia preferita a monopoli e il mare sempre fantastico qui si potrebbe fare anche il bagno ci sono oggi 20 gradi e che dire approfittatene ad uscire più possibile prima che ci rinchiudano in casa bene amici men wow auguri di ogni santi a tutti e questo è quello che trovate qui nella fantastica e bellissima monopoli questo mare stupendo che vi aspetta memento per sempre e a presto su men wow grazie a tutti